buonasera a tutti e a tutti spero si senta ok grazie per essere venuti qua questa sera siete numerosissimi non ci aspettavamo così tanto pubblico altrettutto ci sono anche collegati online quindi siete davvero tantissimi io mi presento sono elisa gremmo e questa sera rappresento la rivista online atmosfera lab alcuni componenti sono qua ne fanno parte e questo è un convegno che è creato in collaborazione con l'associazione foresta dopo vi passerò carlo che spiegherà un po meglio in che cosa consiste e questa sera parleremo del rapporto tra cibo e plastica come ovviamente sapete e per farlo abbiamo chiamato tre esperti mauro balboni fabiana corami e beatrice rosso ma è fondamentale per noi ovviamente la divulgazione quindi affrontare i temi seguiti e portati avanti dagli esperti però appunto che siano aperti e accessibili a tutti e appunto il tema sarà il rapporto tra la plastica e il cibo mauro balboni è un autore del libro il pianeta mangiato e il pianeta dei frigoriferi che poi potete trovate potete trovare anche in fondo alla sala più tardi e appunto lui ci parlerà del l'aumento globale della domanda del cibo e come mai questo trend è collegato appunto al packaging alla plastica beatrice rosso e fabiana corami sono entrambe componenti del cnr isp beatrice rosso una dottoranda mentre invece fabiana corami è una ricercatrice ed entrambe sono specializzate in plastiche microplastiche e appunto fabiana corami ci parlerà anche lei di plastica e packaging perché sono necessarie le plastiche se ci sono delle alternative mentre invece beatrice rosso si concentrerà maggiormente su che cosa succede quando le plastiche arrivano nell'ambiente come ho detto in precedenza io rappresento atmosfera lab che è un magazine online che si occupa appunto di sostenibilità in particolar modo il focus sulle piccole realtà e sulle innovazioni tecnologiche a favore dell'ambiente per quelli che sono in collegamento da remoto beh vi ringrazio e poi se volete nella locandina trovate il mio numero di telefono in cui potete scrivere le domande che verranno fatte alla fine della presentazione detto questo vi ringrazio vi passo carlo grazie a elisa gremmo buonasera a tutti sono carlo manicardi presidente di foresta ets di milano siamo un'associazione che si occupa di riforestazione crediti di carbonio aumento del capitale naturale eccetera questa serata questo incontro insieme con elisa gremmo e atmosfera lab è dedicata a voi a chi ci segue da remoto proprio sui temi del cibo e delle plastiche mauro balboni fabiana corami e beatrice rosso sono persone non solo competenti ma che conoscono la materia e i loro interventi saranno interventi a partire dai dati dalle ricerche quindi non sono opinionisti non sono dei commentatori quindi avrete agio e fortuna di ascoltarli e scatenatevi alla fine con le domande ogni intervento è di 20 minuti ok darò il timing io alla fine dei tre interventi appunto potete fare tutte le domande che volete ok riuscite a fare ok grazie a tutti mauro balboni mauro balboni allora credo che il mio compito qua io sono molto curioso di sentire le due prossime presentazioni perché credo che si innestino molto bene su molte delle cose che io ho scritto nel mio libro il mio il mio compito credo che sia quello di fare un pochino di luce su questa su queste su quali concatenazioni esistono insomma tra il futuro del cibo frigo di freddo sticago cosa significa tutto questo innanzitutto il libro è un viaggio il sottopitolo 10 3 2 anni era abbastanza chiaro alla ricerca di segnali dal futuro del cibo siamo tutti seguaci più o meno di convenzioni alimentari di vario tipo ne ho ne ho anch'io non ne faccio mistero ma mangiare meno di quello non mangiare niente dell'altro chilometro zero la filiera corta questo quell'altro però andando alla ricerca dei segnali del futuro del cibo non necessariamente quello che sta succedendo nel mondo è combaccia esattamente con quello che vorremmo noi segnali con il giro sono molteplici hanno trovati di interessantissimi parlando per esempio di cose che magari in italia ultimamente sono state un po' analizzate demonizzate quelle che si chiamano la carne sintetica e diciamo delle nuove proteine che invece non dovrebbero essere demonizzate perché rispondono potrebbero rispondere alla grande domanda cioè la necessità di diminuire i costi ambientali climatici delle proteine animali così come abbiamo mangiato finora quindi molte cose molte che probabilmente rivestano un interesse vediamo adesso se riusciremo a trasformarle in cose di grande con suo perché chi che resta le netchie pezzi pubbliche che se se ne interessano l'impatto planetario l'impatto planetario sarà ovviamente molto limitata e poi parlando di plastiche ho trovato di nuove non li definirei subito allarmanti ma insomma che costringono un po' a pensare e a sperare questo senofo fa dal punto di vista scientifico arrivi con qualche soluzione cosa intendo dire innanzitutto pensiamo all'uso della plastica nel packaging alimentare che ognuno vuole fa io vivo in Svizzera adesso da moltissimi anni ormai la raccolta differenziata funziona benissimo c'è carta cartone alluminio p e p e t quello che non rientra in questa categoria dovevi mettere in macchina a portarlo a un centro di esistamento dove fargli pure salato per fare della sua vista battuto bene però nonostante questo guardo l'indifferenziato che comunque resta e se devo dire tipicamente parlando il 90 per cento di volume è la plastica per il principio molto spesso due tre involucri diversi che uno si domanda ma insomma c'era letteralmente bisogno questa è la realtà delle cose in un paese avanzato dove bene o male questi discorsi si fanno figuriamoci cosa sta e adesso arrivo al e adesso arrivo al punto che spero sarà utile per introdurre le due presentazioni che vengono dopo figuriamoci cosa sta succedendo e dove questi discorsi ancora non si ripongono perché ancora non si ripongono perché stanno incominciando a mangiare come noi facciamo da una o due generazioni non è sempre stato così neanche da noi no il pianeta dei ho scelto il titolo perché secondo me il boom mondiale dell'acquisto di trigoriferi da parte delle famiglie soprattutto in asia e poi arriva pure l'africa in dei contenti più eletti è il maggiore connotato di quello che succederà a livello globale nel mercato del cibo non è sempre stato così neanche qui mia nonna è morta centenaria nel 1986 stata fuoca in gioventù e ha cominciato a non solo cucinare per lei ma a lavorare all'epoca sia a terra del 1249 che il frigorifero non faceva il primo frigorifero è stato lanciato in america queste cose ovviamente era quasi 200 anni avanti al resto del mondo nel 1927 e voi pensate quanto per le due generazioni successive hanno cambiato in maniera drammatica la nostra alimentazione quando noi ci sono spesso si incontrano ogni giorno bene la fine anche guante dobbiamo tornare a fare quello che si faceva prima prima si mangiava meglio questo o quell'altro in realtà nessuno di noi sa come si mangiava prima che che certe cose così non diamo per scontate diventassero più di uso comunque allora qual è il problema il primo frigorifero lanciato in america dall'oggi dal generale di 1927 ad oggi siamo arrivati a circa un miliardo di frigoriferi usati dalle famiglie nel mondo il prossimo miliardo arriva entro la spondizione ha messo quasi un secolo per arrivare a un miliardo il prossimo miliardo secondo le stime dell'agenzia internazionale dell'energia arriva entro la fine di questa decada voi immaginate cosa significa questo ovviamente lo stava parlando di ora e che stava parlando di prima di cina dove dall'inizio senza snocciolare trovasi il muro e poi chi ti interessa non ne deserce ma all'inizio di questo secolo una famiglia su quattro in cina ne consedeva uno siamo raggiati al 90 per cento attaccateci l'india attaccateci tutti gli altri che arrivano dopo paesi che non si menzionano mai come il vietnam o indonesia o c'è 100 milioni di abitanti e poi si sta muovendo anche l'africa l'africa non è tutta non è solo la disperazione che purtroppo vediamo ogni giorno ci sono paesi che stanno crescendo quel corretto con i paesi europei come con l'italia cresceranno negli anni sessanta l'africa ha dei problemi probabilmente si è molto perché mezzo miliardo di persone a sud del sana non hanno accesso alla detta la fece affabile quindi intanto che non viene risolto quel problema queste cose ancora non funzionano quindi sta succedendo qualcosa di veramente molto molto grande io e altri autori parliamo di la più grande transizione alimentare della storia umana perché semplicemente così tante persone che si mettono a mangiare così tanto in un passo di tempo così così breve prima non c'era probabilmente mai stato siamo tutti contenti che sia così quando io ho cominciato a pensare di queste cose quindi hanno di grazie a 1.277 un essere umano su tre e alla situazione di insicurezza non arrivava a quelle 1.800 euro per le giornaliere che poi tenivano considerate considerate al di sotto delle quali si parla di insicurezza alimentare oggi questa cifra è scesa a meno di 1 su 10 abbiamo sperato un po' anche gli occhi inviabili e che in sotto i dritti cronici sono circa 3,3,3,3,3,3,3,4 migliore cifra che ovviamente sbagliano da un anno o l'altro perché basta una connequo intrasse neanche tutto basta c'è il clima in Africa faccia faccia degli scherzi ovviamente dove magari c'era quella di la foto non c'era quella di niente e poi ovviamente le situazioni di guerra l'istabilità e gli altri state andando in causa quindi da quel punto di vista lo troviamo sicuramente positivo che la gente finalmente mangi il problema è che si stanno mettendo a fare gli stessi errori che abbiamo fatto noi in America prima e in Europa dopo ci sono errori in che senso quello che sta aumentando significativamente come consumi a livello mondiale come produzione di livello mondiale sono ancora una volta le proteine animali e il cibo trasformato allora quando ho scoperto questo sono rimasto un po' deluto perché io stesso noi in caso ovviamente ci siamo posti il problema del costo climatico e l'ambientale del consumo quindi si parla di carne insolito ma ci sono anche le altre c'è anche i dati derivati non mi sono minimamente di arrivare a posizioni ideologiche non mangiare però ovviamente il costo che la terra c'è e sta succedendo che milioni di famiglie e nel resto del mondo fino ad oggi la carne non se la poteva permettere finalmente essere comprata e la consumano esattamente se andiamo a vedere quello che è successo qui da noi in Europa all'italiano 50 in Germania prima gli anni 60 in Italia e altri paesi in fuori e secondo questo il consumo nonostante tutta l'enfasi e le iniziative sicuramente incoviabili da parte di Indic Ingrif e come la nostra gruppi di consumatori e altro per produzione in questione mondiale di carne sta continuando a riparare la realtà la carne è una delle cose che necessita di packaging e alimentare più gli alimenti le buone notizie perché ci sono anche quelle c'è sempre il mio modo di affrontare questi temi è sì siamo nel mezzo di un'emergenza ambientale e climatica che non ha precedenti nella storia umana ma però cerchiamo di vedere quello che si può praticamente fare in qualche maniera ne verremo fuori bisogna cominciare a vedere come la notizia positiva da quel tipo di vista lì è che mentre il grande totem della Nord America e Sud America e Europa è un cane di bovino fortunatamente l'Asia, in particolar modo la Cina e altri paesi prevengono la carne suina e la grande carne dell'Africa è tipicamente la carne di pollo perché? bella notizia perché sono tipi di proteine animali che hanno un'impronta ambientale e climatica molto minore di quella terra di bovino quindi bisogna vedere come poi tutte queste cose andranno ad evolvere comunque tipicamente innanzitutto animali alimentati con filiere ormai globalizzate credo per il caso che sia noto è uno di quelli di cui io parlo è quello delle proteine vegetali che saranno per la produzione delle proteine animali che sono costituite sugli scandi sul mercato internazionale essenzialmente sui essenzialmente sui che viene dall'America Reyes e che va per il 70% in Cina a nutrire maiali e bolognese e per il 30% non lo parla mai assolutamente in Europa e entra anche nelle filiere alimentari in Italia e entro anche ovviamente nelle filiere alimentari di DO non di quella per la versione di origine oppure fosse un tema che avrebbe scavato a parte quindi le arate alimentari che si muovono letteralmente per mezzo mondo packaging alimentare quindi pastica di amicifo che viene usata poi questa roba deve essere venduta sempre più viene venduta anche in Asia e in maniera ancora più limitata ma crescente in Africa viene venduta attraverso la grande distribuzione non cliente certamente nel piccolo negozio a cosiddetto 3-0 quindi packaging alimentare che entra anche in un prezzo simile e poi c'è il mondiale del cosiddetto quello che di solito lo ricorderò è un'espressione più corretta anche lì le cifre che arrivano dal mondo in tumultuosa crescita economica sono sono cifre grosse i grossi nomi di quel business lì i vari Mac, King e vien dicendo hanno aperto negli ultimi 30 anni più punti vendita in Cina non è meglio quelli che hanno aperto negli ultimi 30 anni da quando sono nati quindi questo per dare un'idea di cosa vuol dire questa massa di nuovi consumatori della nuova classe media mondiale e che finalmente per la prima volta nella storia delle loro famiglie può permettersi di comprare questa roba e quindi è un po' difficile andare adesso là abbiamo già fatto noi degli errori non fateli voi è un po' il discorso quello che si sente quando si sente parlare di giustizia climatica per esempio ma adesso quelli lì vanno in macchina non è così facile andare a dire no guarda il riscaldamento no no perché dopo ci sono le polveri sottili CO2 quindi sono discorsi grossi ecco il il tema con cui io vorrei vorrei chiudere poi ovviamente si esplorano tante altre cose nel libro dall'agricoltura verticale sotterranea addirittura e via dicendo però credo che il tema che si innesta benissimo poi nelle prossime due presentazioni è essenzialmente questo stiamo andando verso un mondo mondo che mangia sempre meno sempre in maniera più virtuosa no stiamo andando verso un mondo che mangia sempre più a chilometro zero no anche ammesso che esista il chilometro zero stiamo andando verso un mondo che necessiterà ancora più di oggi e sempre più di packaging alimentare assolutamente sì credo che sia assolutamente evidente da tutti i dati che poi sono i dati ufficiali sono quelli della della delle delle Nazioni Unite del forum economico mondiale dell'Ocse quindi è tutto alla luce del sole se uno vuole vuole leggerli vuole capire un po' le grandi lezioni che ci vengono da questi numeri quindi stiamo andando in un mondo che rischia di dover produrre e usare ancora più plastica di quella che abbiamo usato noi finora e allora io spero che la ricerca la tecnologia e la ricerca ci fornisca qualche soluzione non so io sono una adesso esco dal mio ambito e cedo il lo spazio mi auguro che o perché si parlerà di riciclo riuso di bioplastiche di quello che non so però mi auguro che qualche soluzione ci sia perché il problema c'è e non se ne andrà via da solo questo è abbastanza chiaro per se ci sono domande credo che vadano tutte alla fine e credo che di aver mai finito con il mio tempo e ci vogliate Allora, beh, insomma sono Fabiana Corami ricercatrice dell'Istituto di Scienze Polari del CNR sede a Venezia ringrazio comunque Foresta con cui già collaboriamo da un po' e anche poi Atmosfera Lab per questa occasione per essere qui a Padova e io ho voluto aprire la mia presentazione proprio con un'immagine che so che fa alzare sempre il sopracciglio a chiunque la guarda perché sono immagini che in realtà poi declinate in maniera diversa vengono ormai su tutti i giornali si trovano su internet e quindi si vede subito tutta questa plastica e io invece vi dico invece di fare asserzioni cominciamo a farci delle domande cioè non diciamo a tutta questa plastica chiediamoci tutta questa plastica è necessaria? Perché è necessaria? Perché il problema fondamentale è anche capire il perché è necessaria qualcosa o se è davvero necessaria non lo sappiamo però chi si pone delle domande va alla ricerca delle risposte chi invece dà delle asserzioni non conosce cioè limita se stesso alla conoscenza quindi io vado sull'altra ecco la platea è piuttosto giovane quindi mi sa che il cassettino dei ricordi non si sblocca così facilmente perché le rosana per molti di voi erano già andate in discontinuità ecco ecco invece per chi si ricorda perché il packaging ho scelto queste due caramelle apposta perché il packaging delle caramelle fondenti della perugina come vedete quello dei fruttini le rosana sempre perugina erano completamente diverse e uno deve cominciare a chiedersi il perché il packaging diventa così diverso e sempre su questa siccome già di domande ve ne ho fatte due ve ne aggiungo altre due chi di voi usa la pellicola per alimenti? se la risposta è sì la usiamo avete notato delle differenze nella pellicola degli alimenti? poi mi rispondete alla fine e perché sono importanti ora come si sceglie il packaging? perché è chiaro che il packaging va scelto io ve lo dico dal punto di vista dello scienziato come si sceglie un packaging quindi per me all'80% sono addirittura al 90% la scelta del packaging è in base al tipo di alimento che io vado a dover conservare e alla sua sicurezza microbiologica non esiste altro quindi il fatto che le derrate alimentari viaggino a livello globale significa che noi dobbiamo garantire una sicurezza microbiologica perché altrimenti significa che abbiamo poi un altro grave problema che può diventare pandemico le tossinfezioni e le intossicazioni alimentari vengono ignorate io ho fatto nella mia vita tante cose uno dei miei lavori è stato quello di essere docente per i ristoratori e facevo i corsi per il libretto sanitario quindi sicurezza microbiologica facevo del sano terrorismo ve lo dico quando si alzavano e poi ho terrorizzato talmente tanto il mio marito che ogni volta che guarda una confezione qualsiasi cosa sia siamo sicuri che non c'è il botulino? no questo non ce lo può avere perché non c'è proprio del packaging non è l'alimento giusto però questo perché facevo del sano terrorismo proprio perché e vi invito a vedere c'è un bellissimo bellissimo per me poi terrorizzante per molti di voi c'è un bellissimo film di recente uscito su Netflix in America si parla di intossicazioni e tossinfezioni alimentari e noi ignoriamo il problema e vi dico negli ultimi anni dagli anni 2000 ad adesso sono aumentate vertiginosamente le morti da intossicazioni alimentari tanto perché voglio fare del sano terrorismo ma partiamo subito così per bene ma anche tutte le encefaliti perché? perché si sono sviluppati dei ceppi batterici che sono veramente estremamente invasivi e pericolosi quindi in America anch'io quando l'ho visto avete visto prima la frutta tutta così ecco io non ho più da quando l'ho visto era estate non ho più guardato un melone con la stessa faccia ho proprio detto ok il melone anche il melone è pericoloso perché il melone non quello liscio il melone retato è fonte di contaminazioni pensate a quando viene tagliato nel momento in cui viene tagliato siccome la buccia non si riesce a essere pulita basta quindi te lo mettono nel packaging ma non c'è sicurezza microbiologica e quindi uno dice perfetto allora io il melone retato non me lo compro più posso trovare quello liscio no e allora non mangio più melone cioè arriveremo a fare questo tipo di scelte no? cioè se questa cosa non è più sicura come faccio? perché neanche il packaging è più sicuro a quel punto lì perché la contaminazione è talmente stesa che neanche il packaging vi assicura più la sicurezza microbiologica poi ci sono ovviamente ecco per questo poi questa è carina dai ci facciamo due risate tutti i chi di noi non si ricorda i dai quelli che hanno un po' i più vintage i più maturi si ricordano che ogni tanto succedeva che c'era una famiglia che mangiava la conserva della zia oppure i sottoli fatti dalla nonna botulino e poi le conserve di pomodoro che saltavano e quando saltava una bottiglia saltavano ondate oltre dieci ecco perché? perché non era giusto il modo di conservazione non è soltanto il packaging in sé ma anche proprio tutta la filiera che mi porta alla scelta di quel packaging a questo punto poi ci sono altre problematiche ad esempio c'è l'esigenza di trasporto è chiaro che se io devo trasportare, è per questo che poi dopo la materia plastica anzi le materie plastiche diventano così preponderanti voi pensate a quanto può essere facile o difficile trasportare qualcosa in vetro e pensate invece quanto può essere facile o difficile trasportarla con un involucro di plastica quindi questo fa pesare al produttore non soltanto il discorso di sicurezza microbiologica ma il fatto che arrivi al consumatore quindi anche lì bisogna decidere bene poi dopo ci sono i vari aspetti normativi che sono aspetti normativi che non riguardano la sicurezza microbiologica che c'è tutta una serie di aspetti normativi molto pesanti io parlo ad esempio di alimenti che potrebbero avere un packaging come ad esempio alcuni alimenti per le diete speciali ad esempio gli alimenti per la celiachia sono estremamente ricchi di packaging potrebbe essere diminuito questo packaging? sì, bisognerebbe fare uno studio, delle volte non lo fanno un po' per pigrizia un po' perché tanto dicono ma tanto noi il mercato ce l'abbiamo lo comprano lo stesso perché sono obbligati a comprarmi però bisognerebbe avere un po' più di coerenza e cominciare anche lì a fare della ricerca e sviluppo per vedere se questo packaging diminuisce poi c'è il discorso, il livello di sostenibilità fondamentale perché quando si parla soprattutto di materie plastiche tutti pensano che il ciclo della plastica sia una bellissima linea retta e invece non è così in realtà è molto più che una linea curva è chiaro che come diceva giustamente Mauro prima il problema è che ci sono nuove entità che stanno consumando come consumavamo noi negli anni 60 ed è chiaro che bisogna che vengano educati a capire che anche se la plastica soprattutto quella che proviene da fonti fossili non rinnovabili in realtà è un serbatoio di energia per cui se tu vuoi per forza incenerirla almeno recupera il calore che produci invece in alcune nazioni eliminano i fiuti plastici per incenerimento ma non recuperano il calore e quindi lì è chiaro che è una linea retta, non è un ciclo invece nel ciclo noi dobbiamo considerare diversi step e i diversi step poi entrano nel famoso life cycle assessment cioè l'analisi del ciclo di vita che però ogni tanto viene calcolato non considerando tutti gli step del cerchio e quindi è chiaro che il cerchio non è più un cerchio poi se noi invece tutta questa esigenza del packaging la rigiriamo questa lista e la vediamo dal punto di vista di chi fa marketing è chiaro che al primo posto e al secondo posto ci sono che cosa? personalizzazione del prodotto e branding cioè il marchio per me invece dico questi sono secondari quindi che cosa succede? in realtà i polimeri plastici quando sono stati scoperti sono stati scoperti perché nelle grandi industrie anche americane e inglesi c'era comunque un laboratorio che faceva ricerca e sviluppo così a prescindere ogni tanto incappavano in qualche scoperta che poteva essere economicamente anche valida però lì che ci doveva essere? ci doveva essere a quel punto il padrone dell'industria l'imprenditore che diceva beh però su questa io voglio investire e quindi a quel punto producevano nuove tipologie anche di packaging però poi doveva arrivare per forza il madman della situazione perché senza la pubblicità non poteva vendere quel packaging anche l'avesse voluto vendere a altri produttori quindi era necessario che questa filiera fosse molto completa poi di packaging, qui vado veloce il packaging non nasce con la plastica il packaging nasce con l'uomo gli assiri babilonesi, i romani avevano le anfore per conservare il cibo e uno dei grandi motori, sembra assurdo per cui il packaging si evolve, sono le guerre sapete perché hanno fatto le scatolette? perché i soldati delle campagne napoleoniche dovevano nutrirsi e si erano resi conto che se gli davano il cibo in vetro il vetro si rompeva e quindi si sono messi a studiare e hanno scoperto ah ma ci sono le scatolette scatolette che erano di stagno poi lo stagno c'è tutta una serie di altri problemi però voglio dire c'era anche il botulino insomma il botulino è stato scoperto il costito di un botulino è stato scoperto nel 1500 e rotti perché le salsicce erano andate a male però poi hanno capito che c'era la sterilizzazione quindi c'era tutta questa cosa quando parliamo della plastica arriviamo al politriente reftalato stiamo parlando già del metà del XX secolo il packaging da mo' che c'era c'è stato un periodo negli anni 90 che era bellissimo produrre tutto barricato quindi le botti del barric tutto si produceva barricato non nel senso che facciamo le barricate no, buttiamo tutto nelle botti in barricche perché fa meglio ma anche delle cose che magari non avevano senso semplicemente perché perché lì non era un discorso di packaging per sicurezza alimentare era semplicemente perché così marketing pura pubblicità quindi adesso l'altra pubblicità qual è il famoso greenwashing? l'utilizzare dei contenitori che vengono utilizzati dall'alba dei tempi in altri luoghi le foglie di banano cioè le foglie di banano sono l'equivalente dell'anfora le popolazioni del Pacifico o laddove c'erano le palme e quindi anche banani utilizzavano le foglie per cucinare e per cosa? per trasportare il cibo quindi è packaging di fatto quindi di fatto adesso dire sì ma il banano sai è bio e tutto ho capito però mi stai vendendo qualcosa che è vecchio, antico me lo fai passare con un'estrema novità perché fai marketing non stai pensando a quanto sicuro è a quanto mi dura il cibo eccetera perché poi bisogna anche considerare questo cioè il packaging nasce sicurezza microbiologica shelf life che significa che io se apro un barattolo un qualsiasi involucro di plastica dopo un anno deve essere fresco come se fosse stato prodotto dieci minuti prima è brutto dirlo così però di fatto la modernità ci ha portato anche a questo e anche il frigorifero ci ha portato anche a questo la freschezza di dire l'ho comprato tre giorni fa deve essere come se l'avessi comprato dieci minuti fa e questa è la conservazione dunque ecco questo è chi è chi? un'altra domanda voi qui vedete solo delle buste trasparenti non riuscite a dirmi chi è plastica e chi non è plastica quindi perché non si può dire allora una parte di queste buste è cellophane il cellophane è stato scoperto alla fine dell'ottocento sì quindi stiamo parlando diciannovesimo secolo è stato scoperto per quasi per caso perché tutto poi nasce per caso è stato poi adesso viene ripreso perché viene considerato bio perché? perché è bio il cellophane? perché a base di cellulosa il problema è che non è solo a base di cellulosa quindi quando parliamo di bio quando mettiamo l'etichetta bio a qualcosa facciamo attenzione perché è cellulosa che però in realtà già alla base aveva della canfora era una nitrocellulosa non era cellulosa soltanto quindi adesso è un cellophane con degli additivi quindi quando diciamo bio attenzione sicuramente è bio sicuramente può essere degradabile ma può rilasciare delle altre sostanze che possono essere inquinanti tanto inquinanti come i polimeri plastici non lo sappiamo ancora adesso quindi dovremmo ragionarci bisogna scientificamente provarlo l'altra alternativa qual è? l'altra busta trasparente è il polipropilene polipropilene natta quindi Italia 1950 polipropilene è uno uno di quegli involucri estremamente versatili perché può essere utilizzato per tantissimi alimenti uno dei grandi problemi dell'utilizzo delle plastiche infatti è che bisogna anche decidere l'alimento perché non è che tutte le plastiche vanno bene per la stessa cosa quindi ci sono polimeri e polimeri e il problema del riciclo è quando uno si trova più di 3-4 polimeri assieme può succedere quindi ecco una delle cose su cui dovrebbe puntare il nuovo packaging è aumentare il diciamo il riciclo delle plastiche quindi utilizzare la plastica rigenerata aumentare che cosa? anche le plastiche a base bio nel senso che plastiche possono essere come quelle provenienti da amidi ma soprattutto è anche andare a vedere di non creare complessi di plastiche diverse perché se io ho una monoplastica è più facile è molto più semplice il riciclo questi qui sono i nostri supermercati io ne ho messi un po' in giro per il mondo guardate che la differenza quello che proprio diceva Mauro guardate quello asiatico quanto più packaging di plastica c'è rispetto agli altri perché diventa un fatto culturale il packaging il packaging poi diventa un fatto culturale e quindi adesso voi pensate se vogliamo andare a imporre a qualcuno che vive in Alaska o in Groenlandia o all'Eauai ho preso apposta questi tre estremi il supermercato ideale che noi vorremmo avere qui in Europa qui in Italia non possiamo perché hanno delle condizioni di clima di tutta una serie di cose per cui se noi vogliamo che abbiano un certo apporto di verdura frutta fresca eccetera bisogna che ci sia del packaging quindi dobbiamo trovare anche lì dei compromessi e poi un'altra cosa non si può andare a imporre quello che va bene per noi quando per 30-40 anni noi abbiamo sporcato è fatto quindi bisogna che troviamo ovviamente degli accordi però non è semplice questa qui è una classificazione che in realtà hanno adottato in tutto il mondo ma è fatta da un consorzio di plastiche statuninenze non è mai stata cambiata però vi dice in realtà tutto quello che viene riciclato sotto Ader non c'è soltanto il policarbonato in realtà sotto altro ci sono tantissime plastiche quindi bisogna anche sfatare il mito che quando mi dicono perché io mi sono trovata più una volta dimmi eh no ma sai il pvc non si può riciclare il pvc è il numero 3 è il blister delle medicine è il blister delle gomme noi non abbiamo più le confezioni di gomme nei blister ma ce le avevamo negli anni 80 in Brasile le hanno ancora nei blister però il pvc si può riciclare il punto è ci deve essere anche la tecnologia per riciclare certe plastiche non è vero che le plastiche non si riciclano hanno fatto prima del covid hanno finanziato addirittura tra cui anche uno studio italiano degli studi per andare a riciclare le plastiche termoindurenti le plastiche termoindurenti non si potevano cioè per definizione non possono essere fuse di nuovamente ok invece stanno cercando di riciclarle anche quelle per ottenere di nuovo dei pellet da poterli utilizzare quindi è chiaro che l'evoluzione della scienza deve portare a che cosa ad avere sempre più materiale che sia rigenerato ecco sono arrivati quasi alla fine questo qui è importante vi faccio riflettere siccome noi viviamo una crisi climatica ma stiamo vivendo anche una crisi idrica crisi idrica che c'è in tutto il mondo e che stiamo cominciando a sentire in Italia da qualche anno voglio dire sono già due anni che ci cominciano a dire dobbiamo razionare l'acqua guardate gli impatti della produzione di una busta di polietilene una busta di carta una busta di polietilene che viene riutilizzata continuamente e una busta di polietilene che però già contiene della plastica rigenerata capite bene che già come dopo otto utilizzi la busta di plastica di polietilene otto utilizzi quella che contiene il 40% di rigenerato ha abbassato il suo impatto idrico notevolmente e lo stesso l'impatto della CO2 quindi è chiaro che di partenza c'è un costo nel life cycle assessment io ho il costo delle materie prime ma poi io vedo questo costo diminuire con l'utilizzo e se io vi faccio vedere quest'altra voi prendete quanti ecco questa qui è bellissima perché poi si dice io odio la parola ecologico naturale e bio perché sono state abusate ok ok so che mi attirerò alle ire di molti però ecologico naturale e bio è stato utilizzato a sproposito quindi tutto è naturale anche la cicuta il curaro e persino l'antimonio che fa anche l'arsenico è tutto naturale però voglio dire non è che ci fa molto bene quindi ecco quindi naturale a un certo punto ecco ecologico ecco le fibre naturali non esistono le fibre naturali perché nel momento in cui una fibra di cotone viene filata e tessuta non è più naturale dimentichiamocelo ok quanto quanto è ecologico una borsa di cotone e guardate tra il cotone bio che bello metterci quella quell'etichettina bio che piace tanto e il cotone quello coltivato convenzionalmente quanti utilizzi servono per abbattere i costi quindi l'impatto della CO2 della produzione e l'acqua che serve alla fine vedete che quella che chiamano la bag for life sono le nostre buste di plastica quelle di plastica dura che ci danno tutti i supermercati che possono essere lavate in lavatrice a 30 gradi che possono essere poi messe nel riciclo perché sono comunque di polietilene anzi no di polipropilene quindi alla fine la bag for life siccome la utilizzi talmente tanto che ti si deve distruggere e che poi la puoi riciclare perché tra l'altro poi le sporte di cotone devono essere messe non nel riciclo vanno nell'indifferenziato perché non c'è ancora un riciclo delle fibre e quindi significa che se vanno nell'indifferenziato dov'è che va a finire landfills discariche consumo del suolo e poi dopo lì inquinamento quindi anche lì l'agricoltura è molto l'agricoltura e l'allevamento sono legate a che cosa al consumo del suolo all'inquinamento e all'acqua che serve non è soltanto un problema di CO2 per il cambiamento climatico è anche tutto quello che c'è di contorno quindi insomma diciamo che di ecologico c'è molto da discutere dobbiamo discutere dobbiamo arrivare però ad avere un compromesso ecco io avrei finito vi ringrazio per la vostra attenzione mi aspetto abbastanza domande voglio ringraziare tutti i miei colleghi che lavorano con me poi nell'ambito delle plastiche che sono colleghi sia del CNR sia dell'università Ca' Foscari ma poi anche di altre istituzioni e lascerei la parola a Beatrice con la quale stiamo lavorando da qualche anno ormai sulle microplastiche grazie mille ok buonasera a tutti io ringrazio da prima Foresta e Atmosfera Love per averci invitato questa sera e io invece vi racconterò un po' delle microplastiche di quello che noi facciamo nella ricerca e poi anche come queste vanno a influenzare il settore alimentare come vi ha fatto vedere prima Fabiana la dottoressa abbiamo questo è il nostro team di ricerca ci troviamo presso il campo scientifico dell'università Ca' Foscari di Venezia a Mestre e collaboriamo insieme al CNR Istituto di Scienze Polari e abbiamo così creato un nostro team questo è il nostro gruppo perché da qualche anno alla fine da fine 2018 inizio 2019 è nato questo boom delle microplastiche anche dal nostro punto di vista della ricerca quindi abbiamo iniziato a intraprendere questa linea per comprendere meglio cosa sono da dove arrivano quante possono esserci e ampliarlo anche con la presenza di additivi per adesso non abbiamo ancora parlato ma anche l'addittivo in sé che può derivare dalla plastica può essere un problema e può essere ed è considerato un nuovo inquinante emergente insieme alle microplastiche noi adesso ci stiamo focalizzando principalmente nella messa a punto dei metodi quindi partiamo dal campionamento prendiamo un campione che può essere sedimento neve acqua e attraverso diverse tecnologie andiamo ad analizzarle avrete già sentito parlare sicuramente di microplastiche ogni tanto vediamo che esce qualche news esce qualche notizia le microplastiche sono state trovate al polo nord nella fossa delle Marianne negli organi umani addirittura nel sangue ecco c'è da dire che c'è un po' di allarmismo da questo punto di vista anche dal punto di vista scientifico da cosa nasce questo allarmismo nasce dal fatto che non è presente ad oggi una legge una normativa che ci permette di dire che c'è un limite quindi senza questo limite e senza un metodo che sia standardizzato per tutti noi non possiamo sapere se sono veramente pericolose oppure no quindi quello che stiamo facendo il nostro gruppo di ricerca ma un po' in tutto il mondo tutti i vari enti di ricerca università è quello di mettere appunto dei metodi per cercare di arrivare a un dato finale che sia il più rappresentativo possibile una volta che arriviamo a questo e che insomma ci sia un accordo tra tutti gli enti si arriva a capire il limite da questo limite possiamo capire se la plastica può essere tossica o più problematica per gli organismi e per l'uomo quindi quando leggiamo una notizia cerchiamo sempre intanto capire la fonte e poi avere un po' di consapevolezza che dietro insomma possono esserci una, dieci, cento, mille microplastiche ma potrebbero o no essere tossiche parto un po' a spiegarvi che cosa vuol dire microplastica questo non è banale non è scontato perché la definizione è nata solamente nel 2019 quindi in ambito scientifico stiamo parlando comunque di un periodo molto recente le plastiche come vedete dallo schema si trovano nella dimensione tra il micron di dimensione e i 5 millimetri il micron per spiegarvi è mille volte più piccolo di un millimetro quindi parliamo di dimensioni veramente piccole che a volte si fa fatica comprendere e che sono invisibili occhio nudo quindi noi ci stiamo focalizzando proprio in quelle piccoline perché sono le più pericolose possono essere ingerite inalate oppure essere trasportate più facilmente in ambiente quindi è questo un po' per spiegarvi ecco quello che noi facciamo tutti i giorni e vi abbiamo portato la foto della clear room che fa sempre un certo effetto perché sembra un po' una stanza di un astronauta e in realtà noi dobbiamo operare all'interno di questa stanza che è fatta interamente in acciaio perché è una stanza pulita facciamo questo perché le plastiche sono le microplastiche sono dappertutto sono anche nell'aria anche nell'aria purtroppo che noi possiamo respirare quindi quando noi le analizziamo e andiamo a analizzare campioni che magari a volte sono molto particolari e sensibili come la neve o il ghiaccio del polo nord dobbiamo fare attenzione a non contaminare il nostro campione e per farlo andiamo in queste stanze apposite in cui all'interno troviamo acciaio vetro e cerchiamo di evitare la plastica per appunto non apportarla al nostro campione quindi dietro c'è tutto insomma un lavoro che non sto a spiegarvi con vari step e passaggi proprio per arrivare poi all'analisi e quindi al dato prima di parlarvi un po' di quale può essere il risvolto nel settore alimentare che è un po' il tema di questa sera io ho portato questo schema per farvi comprendere meglio che le microplastiche nel momento in cui vengono prodotte da una sorgente non rimangono nel punto in cui sono prodotte ma possono viaggiare ed essere trasportate nell'ambiente troviamo per esempio la parte atmosferica e quindi le plastiche soprattutto quelle più piccole possono essere trasportate dal vento dalle correnti atmosferiche e poi cadere o per gravità o tramite le piogge o la neve poi giungono nel compartimento terrestre in questo ci sono tantissime sorgenti attività industriali urbane strade l'agricoltura e tutti questi possono apportare microplastiche in ambiente e poi infine troviamo quello acquatico e quindi le plastiche possono poi raggiungere canali fiumi laghi mari e oceani ecco detto questo arriviamo al punto di questa sera ma come possono contaminare quindi il cibo che noi mangiamo allora prima di iniziare c'è da dire che sono tutte ricerche molto recenti si parla addirittura del 2023 quindi siamo quest'anno quindi le ricerche che ci sono sono molto nuove e anche la scienza deve avere il tempo per un po' approfondire e capire quindi se c'è un effetto tossicologico i percorsi però fondamentali per capire quindi se le picroplastiche possono arrivare al cibo sono molteplici parliamo che il primo può essere del packaging abbiamo parlato bene questa sera grazie ai miei colleghi quindi non mi soffermo il packaging insomma può a contatto con l'alimento andare a rilasciare micro e nanoplastiche quindi parliamo di plastiche ancora più piccole nell'alimento a cui è contatto o nella bevanda possiamo trovare altri alimenti come condimenti olio sale pepe zucchero anche queste ci sono delle ricerche che sono state fatte anche in Italia in cui hanno trovato plastiche per esempio nello zucchero nel sale si parla anche di microfibre che possono derivare anche dai tessuti che possono andare nell'aria nell'atmosfera e poi contaminare il cibo dagli allevamenti gli animali che a loro volta possono essere contaminati dal mangime o dall'atmosfera circostante e dall'aspetto acquatico e quindi all'interno della catena trofica quindi le plastiche possono passare nei diversi livelli etrofici fino a arrivare anche all'uomo secondo sempre studi molto recenti questo ve ne parlerò dopo è proprio di agosto 2023 sembrerebbe che anche le verdure e gli ortaggi sono contaminate da plastica vi racconto dopo e poi abbiamo l'atmosfera l'atmosfera circostante che può depositarsi o nel momento dell'ingestione o man mano che viene lavorato il prodotto può anche questo apportare della plastica vi presento come caso di studio dei nostri lavori che abbiamo pubblicato l'anno scorso e noi abbiamo preso degli organismi dei pesci commercialmente disponibili come la soglio la lorata e delle ostriche provenienti dalla laguna di Venezia e abbiamo detto ok proviamo a vedere se c'è qualcosa all'interno dei pesci abbiamo preso solo il tratto digerente e invece dell'ostrica all'organismo intero abbiamo trovato dopo una serie di step di metodiche tecniche specifiche che possono ingerire delle microplastiche molto molto piccole quindi parliamo come vi spiegavo prima micron di dimensione di diverse tipologie soprattutto abbiamo trovato nylon il nylon è un polimero che principalmente noi abbiamo ipotizzato derivasse da attività marina dalla pesca principalmente e quindi siamo rimasti un po' anche noi perché non ci aspettavamo di trovare questo quantitativo la cosa fondamentale da dire è che all'interno poi della catena trofica queste plastiche ci si chiede se possono essere poi trasportate da un organismo all'altro anche l'agricoltura e la contaminazione del suolo sono fondamentali per capire quindi l'inquinamento nell'alimentazione pensiamo a tutte le lavorazioni agricole l'uso di serre la pacciamatura i fili utilizzati in agricoltura o anche le discariche queste possono apportare le microplastiche nel suolo e nel suolo troviamo principalmente ortaggi o bovini e ovini da questo studio che vi dicevo prima delle verdure degli ortaggi sembrerebbe che le più piccole si parla anche di nanoplastiche possano attraversare le membrane cellulari delle radici e quindi poi accumularsi nei bulbi o nelle foglie attraverso il sistema linfatico quindi qui c'è ancora da approfondire sono ricerche nuovissime quindi bisogna ancora capire meglio però sembrerebbe hanno fatto un lavoro sulla lattuga mi sembra la carota e il pomodoro o la patata addirittura e hanno trovato dei piccoli frammenti di nanoplastica quindi c'è da capire se possono avere poi un effetto tossicologico quindi riassumendo un po' la plastica la contaminazione negli alimenti parte dalla produzione quindi come viene prodotto l'alimento al trasporto anche il trasporto può contribuire e poi alla conservazione quindi al packaging di cui abbiamo già parlato ci sono degli studi che hanno fatto tipo degli esperimenti hanno visto per esempio se dei contenitori di plastica usati per bevande calde per esempio tè caffè potevano ad alte temperature andare a rilasciare si è visto che già con 60 gradi le plastiche potevano andare a degradarsi a deformarsi perché la plastica il polimero quando viene scaldato può rompersi la catena può rompersi e andare a rilasciare nella bevanda o oltre alla degradazione questa è la degradazione termica quindi ad alte temperature abbiamo anche quella biologica quindi in presenza di batteri o fotodegradazione con la luce per esempio le bottiglie di plastica lasciate al sole possono poi anche queste andare a degradarsi e a produrre microplastica invece per quanto riguarda l'acqua potabile anche questo è un argomento molto sensibile e la ricerca sta iniziando a cercare di capire se possono contaminare anche le acque noi per esempio facciamo parte della tavola rotonda dell'istituto superiore di sanità e stiamo insieme ad altri enti di ricerca e università cercando di capire di parlarci tra di noi e dire ok vediamo che metodica riusciamo tutti quanti a mettere a punto per arrivare a un dato poi comune e capire quindi tutti insieme se c'è la presenza o come intervenire per quanto riguarda l'acqua i trasporti sono sempre il packaging troviamo l'atmosfera o i sistemi di filtrazione e di trattamento anche le acque di falda e infine tubazioni e guarnizioni varie che possono rilasciare a loro volta quindi ci si chiede un po' quali sono quindi le implicazioni un po' per l'uomo come vi ho detto non essendoci un limite legge noi non sappiamo oltre al quale se è presente un effetto tossico per l'uomo ci sono sì degli esperimenti che sono stati fatti per esempio hanno trovato le plastiche nei vari organi polmoni fegato e quant'altro e hanno visto qualche risposta di infiammazione o citotossicità c'è da però indagare e capire meglio qual è il quantitativo è uscito per esempio questo disegnetto questa notizia ultimamente in cui dicevano ci mangiamo a settimana il quantitativo di una carta di credito ok questo è per fare allarmismo e dire ok va bene le plastiche sono dappertutto possiamo sì mangiarcele vediamo qual è il quantitativo che può darci un effetto e quindi io concludo la mia la mia parte questa sera cercando anche di darvi un po' come messaggio quello che quando noi troviamo adesso magari uno esce e dice oddio adesso cosa compro il supermercato c'è microplastica non c'è microplastica bisogna essere sempre consapevoli bisogna innanzitutto sapere che c'è un problema essere consapevoli costruttivi scegliere un prodotto leggendo le etichette facendosi delle domande riciclare e riutilizzare laddove sempre è possibile e comunicare quindi anche educare all'ambiente educare alla raccolta differenziata e poi c'è il nostro lavoro di ricerca che stiamo cercando insomma di portare avanti di dare dei numeri e quindi poi capire se intervenire con monitoraggio o eventuali anche soluzioni tecnologiche se avete domande siamo tutti disponibili anche anche la mia domanda anzi le domande erano erano quattro la domanda però una delle domande era se avete se utilizzate la pellicola di plastica per gli alimenti e se avete notato delle differenze nel fatto che come chiude la pellicola di plastica sui contenitori adesso si apre il castettino della memoria una no no ma rispetto a quella di una volta è meno elastica e infatti se ne consuma molta di più e sapete perché hanno cambiato gli additivi perché hanno cambiato gli additivi perché gli additivi che c'erano nella formulazione precedente venivano rilasciati quindi in realtà molto spesso non è il polimero plastico la fonte di contaminazione ma il fatto che rilasci gli additivi e il polimero plastico per avere degli oggetti per avere anche la pellicola di plastica perché sia poi persistente quindi resista è necessario metterci gli additivi quindi la plastica è diventato il nostro problema nel momento in cui hanno scoperto che per l'endere resistente servivano gli additivi e li hanno cambiati perché hanno detto questi additivi qui sono pericolosi per la salute e quindi li hanno cambiati però di fatto adesso per chiudere bene magari un contenitore ne consumi di più perché non chiude bene quella di prima sembrava adessiva questa di adesso no e quindi questo ci deve far riflettere cioè molto spesso il compromesso qual è cioè cambiamo il contenitore e l'additivo è un problema è un grande problema il grande problema della contaminazione faceva vedere Battrice e poi lascio rispondere anche lei quanta ne abbiamo buttata nelle discariche quanto quanto suolo è stato consumato per quelle discariche lì quindi adesso come si fanno a bonificare e soprattutto quante ne vengono ancora buttate illegalmente di plastiche in giro e quindi quello è il problema cioè tutta quella che viene buttata in giro è chiaro che poi va a contaminare il suolo sì ci sono tante sorgenti degli additivi e volevo legarmi del fatto che ogni additivo in realtà ha una proprietà quindi non riusciamo neanche immaginarci quanto un singolo oggetto di plastica quanti additivi possa avere al suo interno perché ogni additivo dà una particolarità una proprietà alla plastica chi lo rende più flessibile più duraturo nel tempo gommoso colorato anche perché i pigmenti sono additivi e quindi noi stiamo anche iniziando questa questa altra tematica perché sembra che l'addittivo che viene rilasciato dalla plastica o dalla microplastica possa essere più dannoso rispetto alla plastica stessa quindi è un altro step in avanti che stiamo facendo anche dal punto di vista proprio della ricerca allora io torno esco dalle plastiche e torno al cibo torno torno a Mauro Balboni Mauro Balboni che cosa ci ha detto il cibo quello che mangiamo viene dalla agricoltura dalla terra Mauro Balboni ci ha detto inizia a non essere più vero Mauro Balboni non ci ha detto della domanda che faccio a lui per produrre il cibo bisogna che ci sia terra arata cioè non ci devono essere alberi allora il problema del cibo della produzione mondiale del cibo questo è quello cui si occupa Mauro Balboni nel suo splendido libro è quanta terra arabile c'è al mondo lasciamo perdere questioni geopolitiche di proprietà quanta terra arabile c'è al mondo quanti miliardi di persone ci sono al mondo quanti miliardi di persone ogni giorno cioè come noi e come altri normalmente trovano dalle 2 le 3 mila calorie al giorno ok quindi Mauro Balboni utilizzando i dati della FAO delle statistiche internazionali quelli che non legge non usa nessuno dice non c'è non lo dice lui lo dicono i numeri non c'è abbastanza terra al mondo per sfamare 8 miliardi di persone a 3000 calorie al giorno quindi produrre cibo in un altro modo non è più una curiosità è una necessità parola Mauro Balboni grazie dunque alla lista alla lista delle cose per cui ci serve la terra bisogna aggiungere quella che è stata presentata da lei dove andiamo a prendere queste biomasse con le quali sembra che vogliamo sostituire praticamente tutto io mi chiedo ogni volta che mi arriva che ordino uno 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 quello che che volete adesso non arriva più la cannuccia di plastiche non so quali ma arriva una cosa che è evidentemente fatta con qualcosa che viene dal legno se voi andate a vedere tutte le promesse che vengono fatte fanno parte di questa storia della cosiddetta bio base economy con la quale faremo tutto a base di biomassa è diventata quasi una parola magica la via della salvezza sono le biomassa le biomassa possono essere solamente di origine agricola o di origine forestale cioè se andiamo a se usiamo gli amidi del mais per esempio per fare le cannucce le posate di plastica quello che scusate di materiale biologico in sostituzione di quelle di plastica quel quel campo di mais non lo useremo più per l'alimentazione umana a parte che il mais poi gran parte finisce per alimentare gli animali che poi la storia delle proteine animali che abbiamo visto prima quindi potremmo fare anche di meglio da quel punto di vista lì però il discorso è questo la terra è quello che è peggio ancora con le biomasse primarie di origine forestale perché i numeri sono abbastanza chiari 8-10 milioni di ettari che è praticamente quasi quanto l'intera superficie forestale di un paese come l'Italia spariscono ogni anno ovviamente non qua si sta parlando prevalentemente America del Sud Asia Sud Orientale e Africa quindi lì c'è un grosso problema del quale noi come società umana sembra che non riusciamo a venirne a capo da quando abbiamo cominciato a sviluppare la civilizzazione umana 10-11 mila anni fa a seguito della domesticazione delle piante e degli animali di allevamento non abbiamo fatto altro che una cosa tagliare alberi e adesso tutte queste biomasse che andranno a sostituire felicemente la cattiva plastica io vorrei vorrei sapere io vorrei che ogni qualvolta mi viene dato un cucchiaino di legno una cannuccia di materiale biologico qualcuno mi spiegasse vorrei che fosse possibile andare a vedere questa roba da dove viene perché ho la sensazione che tanto sostenibili quelle filiere non siano guardando anche poi a vedere dov'è l'import del legno dall'America del Sud dalla Russia adesso magari meno per via delle delle sanzioni però poi foreste vetuste in Polonia Romania e altro insomma è roba che viene da lì quindi il discorso cosa fare della terra scritto minuscolo e anche scritto maiuscolo diventa sempre più impellente anche alla luce di tutte queste miracolose sostituzioni per le quali secondo me dovremmo andare prima a chiedere ci serve veramente questa roba e questo è un discorso di modello di consumo complessivo più che di sostituzione di un materiale con un altro e quando il materiale mi deriva da biomasse primarie credo che il punto di domanda dovrebbe essere abbastanza fisso e deve essere risposto prima di continuare magari poi magari fra dieci anni viene fuori il grande scandalo che la cellulosa che ci serviva viene dall'Amazzonia giusto per fare un nome non so se ho risposto c'era una invece io ho una domanda sul discorso della tossicità delle microplastiche e nanoplastiche tu dici non abbiamo ancora un valore tossicologico quindi quello che per le sostanze chimiche per esempio pesticidi e altro si chiama acceptable daily intake e roba del genere quindi ci spaventiamo e presumibilmente non fanno bene e questo è intuitivo però non sappiamo ancora quindi tutto sommato urlare ci sono tracce potrebbe anche non significare nulla meglio se non ci fossero ovviamente però ok ma questo è sul tavolo di chi adesso perché è l'Europa che se ne occupa no? è sul tavolo dell'EFSA o della dell'European Chemical Agency dell'EFSA sicuramente sicuramente dell'EFSA sì perché poi l'European Chemical Agency ha tutto il RIC esatto da lì ecco e anche però l'FSA in parte più che altro c'è il discorso degli organismi dell'OMS l'Organizzazione Mondiale per la Sanità non mi veniva l'acronimo perdonate esatto World Health Organization esatto mi veniva UO però non mi veniva esatto sì sì sono sì 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 è che prima ci deve essere il metodo standardizzato cioè come le campiono come le analizzo come le conto questo è ancora dibattito scientifico noi abbiamo partecipato a conferenze in cui ancora questi punti sono dibattuti sono criticati quindi finché non ci si mette d'accordo su ok questo è il metodo per poterlo analizzare non sappiamo dare un dato che sia affidabile quindi anche noi quando ci confrontiamo con altri colleghi magari altri colleghi vengono altri numeri vengono altri risultati quindi avere la stessa metodica standard stare attenti contaminazione ed altre procedure è il primo step ed è quello che stiamo facendo e dopo una volta averlo messo a punto interviene anche la normativa la legge e quindi poi anche il limite questa è un po' la procedura che sta anche succedendo un po' anche a livello scientifico che stiamo vedendo anche noi allora domande dal pubblico domande allora io avrei tre domande una per Fabiana nozzi due per Fabiana Corami che sono una se ha mai sentito parlare degli imballaggi di tipo micologico e se sì che cosa se ne sa riguardo perché io ho solo letto su un libro a proposito di questi imballaggi e l'altra me la sono segnata mi mi dimentico facilmente le cose se allora lei ha detto che le plastiche possono essere usate come combustibile penso di aver capito bene e comunque sono comunque derivate da combustibili fossili e quindi non è quindi verrebbe da dire che sono pericolose volevo chiedere magari se può approfondire questa cosa perché la prima idea che mi viene in mente è che possa comunque essere un combustibile pericoloso che contribuisca all'inquinamento atmosferico io comincio sempre dalla fine quindi comincio dal bruciare le plastiche allora dipende da dove si bruciano le plastiche sicuramente è chiaro che se io faccio un falò nel mio giardino con le cassette di plastica non è che contribuisco soltanto al cambiamento climatico ma sto intossicando chiunque quindi è chiaro che io parlo di ci sono nazioni dove appunto ci sono gli inceneritori dove tutta la materia tutti i rifiuti vengono inceneriti e poi ci sono inceneritori e inceneritori bisogna anche fare di distingo però ad esempio quello che ci dimentichiamo è che quel calore prodotto il calore prodotto tu lo devi in qualche modo utilizzare quello che intendevo io cioè se tu quel calore è fine a se stesso è una perdita è vero che sono combustibili fossili ma sono gli stessi combustibili fossili che è vero che ci hanno portato all'inquinamento ma si può ridurre quell'inquinamento da combustibile fossile in qualche modo ci si può arrivare perché piuttosto che buttar via quel calore così ci sono a Vienna c'è un bellissimo inceneritore che tutti si vedono la stazione quando si entra venendo dal nord tu arrivi a Vienna attraversi quella stazione e vedi una bellissima torre di color lapislazzulo con una palla dorata quello è uno dei più grandi inceneritori che però dà acqua calda e riscaldamento almeno due quartieri di Vienna cioè voglio dire quindi quello io intendo cioè le biomasse o le masse di plastica possono essere utilizzate per questo non buttate il calore così in atmosfera è chiaro bisogna fare degli studi e questa è una risposta le plastiche micologiche si sta facendo un grandissimo studio non soltanto sulle micologiche l'abbiamo visto per esempio anche alla notte dei ricercatori su tutto quello che è lo scarto vegetale quindi non so le bucce d'arancia piuttosto che anche lo scarto vegetale tipo la verdura quindi si può produrre una bioplastica quindi biobased però è chiaro che gli studi sono all'inizio uno dei grandi problemi è se fanno le muffe quindi se le bioplastiche mi producono muffe che poi vanno a contatto con l'alimento sono pericolose perché non me le accetta poi l'FSA non me le accetta nessuno capito quindi ci sono delle ricerche da fare è chiaro giustamente che gli scarti che vengono per esempio dal mondo vegetale proprio perché c'è sempre di più i vegetali vengono pretrattati nel senso che noi magari per comodità andiamo a comprare l'insalata in busta piuttosto che la verdura già pronta in busta il minestrone è già tagliato però ci sono quegli scarti quegli scarti vegetali non sono scarti noi dobbiamo cominciare a pensare che gli scarti sono delle materie prime che dobbiamo riutilizzare se cominciamo a capovolgere questo termine dell'equazione cominciamo anche a vedere che tutti quei cicli della sostenibilità cominciano a essere sempre più ciclici perché c'è un allungamento è chiaro che non possiamo noi ne dobbiamo discutere per forza adesso perché l'emergenza è adesso e dobbiamo tirare giù adesso le fondamenta poi dopo è chiaro che il progresso scientifico l'abbiamo visto anche con il mondo delle plastiche noi quando abbiamo iniziato non eravamo così tanti a studiare le plastiche adesso le plastiche le studiano chiunque quindi è chiaro che sempre l'attenzione ci deve essere quindi io spero che effettivamente queste domande scientifiche entrino sempre di più nel piatto del dibattito perché serve serve pensare a delle alternative ma non può essere un'alternativa secondo me l'errore che noi facciamo è cercare solo un'alternativa mi rilascio alla domanda che giustamente poi ha detto Mauro quale biomassa utilizzare stanno facendo ad esempio delle plastiche dalle alghe però è un prototipo quello che stanno facendo è chiaro che ci sono delle grandissime praterie algali le praterie algali poi non è che ci impiegano poco tempo per diventare praterie voglio dire un'alga perché le grandi macroalga per diventare 2-3 metri non ci impiegano anni come un albero per diventare albero quindi si può utilizzare la cellulosa che c'è nelle alghe piuttosto che quella che viene dalle foreste visto che poi dopo il cambiamento climatico è avvenuto perché c'è stata una grande deforestazione quindi diciamo che dobbiamo cominciare a pensare un pochino più a 360 gradi su questi problemi ambientali spero di aver risposto allora la prima cosa che volevo dire è che comunque sì la risposta è stata molto esaustiva grazie mille poi sì c'è anche da dire che anche le alghe sono organismi fotosintetici quindi è giusto anche tenere conto di questo e sono è comunque è comunque sbagliato pensare che cominciare a prendere tante alghe e rimuoverle dal mare sia meglio che dopo restare grandi foreste e quindi effettivamente anche la plastica dalle macroalghe sì è una cosa molto interessante però comunque come ogni cosa non bisogna non bisogna eccedere comunque grazie mille ho una domanda invece sulle microplastiche perché quest'estate non mi ricordo quando ma si parlava del c'è stato un articolo che parlava di plasticosi negli animali acquatici e se sapete qualcosa oppure che cosa si intende con questo termine questo termine si penso si riferisca a vari articoli che comunque sono usciti in cui fanno dei test di ecotossicità si chiamano in cui sono degli esperimenti in cui prendono un organismo principalmente viene iniziato con gli organismi acquatici si creano delle condizioni particolari con vari parametri temperature eccetera e vanno a inserire delle plastiche anche nell'acqua o nel mangime in questo modo si vede come risponde l'organismo quindi le risposte anche a livello più biologico nello specifico noi ci occupiamo più della chimica analitica quindi non so dirti più nell'aspetto biologico dei pesci ma hanno notato dei cambiamenti dei cambiamenti che riguardano la riproduzione per esempio la crescita e quindi questo forse questa parola questo termine va a indicare un po' gli effetti che possono avere gli organismi acquatici ma l'hanno fatto anche in quelli terrestri a contatto con le plastiche proprio o nell'ambiente circostante o in quello che mangiano anche loro quindi sono un po' degli effetti che hanno notato ad esposizione di questi organismi e sì ce ne sono parecchi adesso studi si sta ancora cercando di capire però questo serve anche per dare un limite di effetti tossicologici partendo ovviamente dagli animali per poi risalire anche all'uomo e lo si fa anche con tutti gli inquinanti non solo per le microplastiche ok ah ok perfetto allora sai benissimo io ho una domanda da qui grazie sempre in ambito microplastiche ci si chiede un pochino anche quando si parla di impatto sul pianeta impatto ambientale sia nelle scelte del cibo sia nelle scelte di come conserviamo questo cibo quindi ci sono anche su Atmosfera Lab articoli su come conservare nella nuova catena del freddo oppure anche articoli su cosa vuol dire scegliere cosa mangiare come mangiare e ci si riflette anche su quanto sia importante la scelta del singolo di fronte invece anche di fronte alle scelte delle grandi aziende che devono decidere loro come impacchettare questo cibo e nell'articolo si magari fa un po' più di luce sul ruolo che dovrebbero avere le istituzioni che si dovrebbero muovere anche un po' in anticipo per regolamentare questo packaging gli alimenti la filiera alimentare ecco due domande in una diciamo come facciamo noi singoli nella nostra quota di responsabilità ad avere un impatto su questa cosa e anche in realtà quanto il singolo effettivamente ha potere nel senso nel cambiare questa cosa nel fare pressione alle istituzioni e alle aziende che poi alla fine sono loro che sono nella grande distribuzione globale ok spondiamo insieme ok sì sì la domanda è abbastanza difficile da rispondere perché esatto non è semplicissimo c'è da dire che le istituzioni si stanno muovendo per esempio l'istituto superiore di sanità ha iniziato a chiedere a tutti noi enti e università vi state adoperando state facendo ricerca cosa state scoprendo e tra di noi ci stiamo mettendo d'accordo per capire quindi qualcosa si sta muovendo ovviamente se non c'è sempre il solito discorso il limite la normativa non può dire niente e quindi finché non c'è quel momento lì o che compare comunque in una lista in cui dicono le plicoplastiche bisogna monitorarle nell'acqua nel sedimento nel suolo fino a quel momento lì non ci si può non si può intervenire formalmente però abbiamo collaborato anche con diverse aziende ci si sta chiedendo questa cosa anche le aziende stesse si stanno cercando di adoperare per analizzarle e per capire se nel loro prodotto o nel loro lavorazione possono apportare anche le loro microplastiche quindi la cosa si sta uscendo e pensavamo anche noi fosse dico la verità una sorta di boom di moda all'inizio perché tutti all'inizio parlavano di queste microplastiche in realtà sta avendo dei risvolti dei sviluppi anche dal punto di vista di soluzioni tecnologiche ci sono tanti studi tanti anche università che stanno proprio mettendo a punto da prima da sistemi pilota poi in campo delle soluzioni per poterle ridurre apro per esempio una parentesi nel mio progetto di dottorato che sto svolgendo con la dottoressa stiamo vedendo anche l'usura degli pneumatici queste rilasciano un quantitativo elevatissimo di microplastiche e grazie a degli impianti di trattamento di autostrade stiamo provando a capire se effettivamente i filtri le bloccano quindi le soluzioni possono esserci c'è bisogno di capire investire ricerca andare a campionare e pubblicare per poter così divulgare anche i nostri risultati nel nostro piccolo anche nel mondo della letteratura io aggiungo solo una cosa quando si parla di microplastiche siccome Beatrice ve l'ha fatto vedere l'intervallo è tra 5 mm e un micrometro quindi è un mondo in realtà è un universo quindi quando parliamo di microplastiche bisogna che parliamo anche di quale dimensione perché i 5 mm io li vedo occhio nudo e li vede benissimo anche la cellula fotoelettrica per l'impacchettamento delle derrate alimentari quindi è chiaro che io quelle grandi le riesco a bloccare eliminare lo stesso possono bloccarle i depuratori o tutti ad esempio anche i filtri dei potabilizzatori il problema qual è è quando io scendo al di sotto della soglia dei 100 micrometri cioè man mano che io mi avvicino a un micrometro quindi un milionesimo di metro allora la cellula fotoelettrica già comincia a far fatica a vederla fa fatica il depuratore a bloccarla quindi significa che lo scarico che arriva al depuratore poi comunque va in mare e lo stesso il potabilizzatore poi è chiaro attenzione che è vero che quando le ingeriamo però questo bilancio ricordatevi che quello che entra esce lo stesso negli animali cioè c'è un momento però in cui si arriva a un cortocircuito e quindi si ha un accumulo ci serve studiare tutto questo perché ancora non è ben chiaro chi mangia cioè chi mangia quale dimensione e che dimensione è pericolosa quindi è tutto gli studi ecco giusto Beatrice diceva ci sono gli studi che vengono fatti in laboratorio però poi quegli studi vanno provati nella realtà quindi man mano stiamo come dire prendendo informazioni c'era bellissimo uno studio che forse tu non hai citato quello del tè cioè la bustina del tè c'è stato un momento in cui soprattutto le case molto diciamo quelle più quotate di tè molto fini quelle che trovi con le scatole di cartone e tutte embossed cioè sarebbero tutte come si dice tutte belle lavorate bellissime con un packaging meraviglioso che avevano deciso di mettere no la bustina di carta normale come tutti i poveri tè plebei no mettiamo il nylon perché perché il nylon ha questo effetto seta solamente che il nylon se lo metto a 60 gradi è ovvio che comincia a sciogliersi cioè anche l'idea di dirmi ma sai se prendo un bicchiere di plastica e ci metto il liquido bollente si scioglie ma non lo devi usare cioè bisogna anche pensare quale materiale vado ad utilizzare se io voglio fare una zuppa e mandarla via per asporto magari non utilizzo il polietilene per metterla dentro utilizzerò un altro materiale quindi è importante anche quello da una parte quindi bisogna lavorare sui materiali noi però dobbiamo continuare a lavorare su capire quello che ci arriva perché poi il bilancio è quello fondamentalmente un po' per rispondere sempre alla domanda che diceva cosa possiamo fare noi delle istituzioni sì ti ho risposto di cosa possiamo fare noi quello che possiamo risponderti noi scienziate è quello un po' di capire se noi andiamo a ipotizzare delle sorgenti capire quindi come bloccare queste sorgenti non lo so noi abbiamo fatto dei lavori su rilascio di microfibre di tessuti sintetici da lavatrice asciugatrice rilasciano un quantitativo allucinante quindi anche lì cerchiamo di utilizzare la lavatrice in una maniera sensata evitare le alte temperature non utilizzarlo a carico metà carico vuote eccetera quindi anche per esempio l'aria l'aria all'interno il cosiddetto inquinamento indoor delle nostre case ci sono tante microplastiche nella polvere nelle fibre che vogliono quindi arieggiare in maniera sufficiente ci sono tante piccole cose che anche il singolo può fare come nella scelta poi anche degli alimenti come abbiamo parlato insomma di packaging che poi ha risvolti anche nelle microplastiche dunque per la scelta del cibo e il discorso che cosa fare per eliminare ridurre plastiche posso dire una cosa che sicuramente non sarà estremamente popolare è vero devo guardare di là almeno in Germania e in Svizzera le vendite di cibo sfuso che vengono spesso presentate come la soluzione per tutti come se 8 miliardi di esseri umani 10 miliardi quasi che saremo nel 2050 potessimo tutti fare la spesa comprando sfuso comunque ci sono casi di negozi grossi partiti con grosse ambizioni in città tedesche di 100-150 mila abitanti che dopo 2-3 anni stanno già chiudendo quindi non sto facendo la pubblicità alle plastiche per uso alimentare però attenzione a saltare sulla moda del momento perché purtroppo stiamo vedendo che queste mode durano poco a fronte della complessità della filiera alimentare che mi pare anche voi due avete presentato molto bene così è ritornando all'inizio del libro che abbiamo visto dal professor Balboni e non ho ben compreso perché la scelta del frigorifero che nonostante ce l'abbia spiegata durante la presentazione ma perché a me comunque sembra un elettrodomestico che rappresenta un po' la punta dell'iceberg cioè quello che penso sia importante anche per la diffusione nei paesi cosiddetti del subglobale è l'energia che viene prodotta per mantenere per far funzionare questo frigorifero quindi volevo semplicemente sapere se poi magari nel suo libro che mi interesserebbe moltissimo leggere si concentra su sta cosa si concentra su energia alternativa anche nei paesi come l'Africa e l'Asia allora innanzitutto i titoli vengono scelti dopo discussioni feroci con gli editori perché ovviamente il compito del titolo è quello di far sì che la gente che ne vede passare in Italia 70.000 ogni anno si fermi su quello e possibilmente lo compri io l'ho scelto proprio per dare l'idea della complessità legata al fatto che nonostante gran parte di noi io stesso si tenda a pensare che le cose al mondo vanno male perché c'è sempre più gente che sta male in realtà c'è sempre più gente che grazie a Dio sta meglio nel senso le cifre dell'Ox in questo caso dicono che non ricordo l'anno ma nel libro c'è credo nel 2015 per la prima volta più di metà del genere umano può essere ascritta alla cosiddetta classe media mondiale che ha un range in dollari disponibili per giorno che è molto vasta perché l'Europa e l'Indonesia sono ancora dei mondi diversi però ecco la gente consuma a livello mondiale consuma sempre di più può permettersi cose che ovviamente non si poteva permettere fino alla generazione precedente che non si è mai potuta permettere nell'intera storia delle loro famiglie il frigorifero è un po' il simbolo e però è anche il simbolo se si vuole sicuramente positivo ma di come l'alimentazione di miliardi di esseri umani andrà sta cambiando adesso e continuerà a cambiare nel corso della prossima generazione il tema dell'energia è ovviamente estremamente collegato il libro parla di agricoltura e di alimentazione però ci sono molte menzioni su queste cose io mi auguro che tutti questi frigoriferi verranno azionati da energie rinnovabili e che non usino gli stessi CFC quelli cloroforo carburico sono quelli responsabili dell'assortigliamento se vuoi un altro numero i frigoriferi in arrivo è un altro miliardo ma i condizionatori d'aria sono altri 5 miliardi perché adesso cominciano a permetterselo anche non è che in Africa sono condannati in eterno a vivere al caldo e la spiegazione dell'Ox è che ovviamente ti basta di solito un frigorifero per ogni unità abitativa in America magari ce ne sono anche due però di solito nel mondo normale di solito uno per famiglia basta ma i condizionatori se ci pensi bene ne hai bisogno spesso di uno per ogni stanza e quindi ci sono grandi domande anche dal punto di vista della come si andrà ad azionare tutta questa roba qua e l'altro e questo si innesta anche nel discorso che è rilevante anche per le plastiche tutto quello che noi sembra che vogliamo fare con le biomasse e bisognerebbe cominciare a specificare queste biomasse da dove vengono perché o fai biomasse per alimentazione umana o fai biomasse per produrre sostituti della plastica non è che la superficie di terra coltivabile è ormai quella che è sono circa un miliardo e mezzo di ettari per conto la superficie agricola utilizzabile dell'Italia sono 12 milioni quindi a livello mondiale è un miliardo e mezzo ci sarebbero ancora secondo le stime della FAO 400 milioni di ettari ma dove sono? Sono in Amazzonia o in Africa? Cioè esattamente nei posti che firmando un accordo climatico dopo l'altro ci siamo almeno teoricamente molto teoricamente impegnati a lasciarli quindi ci sono delle domande a nome no però in sé è un'ottima notizia che la gente finalmente mangi se mangiassero meglio di noi sarebbe meglio anche per loro però purtroppo i dati dicono che c'è questa globalizzazione della dieta occidentale che è una partita in America tra l'altro non è anche qua che è pesantemente basata ovviamente sulle proteine animali tradizionali e sul cibo d'altra parte anche le foto che tu hai hai fatto vedere gran parte della roba che è nella plastica è cibo che contiene diversi ingredienti magari le cui filiere si basano su derrate prodotte dall'altra parte del mondo quindi non sono problemi di facile soluzione ma credo che mettendo sul tavolo i numeri e cominciando a valutarli per quello che sono senza inseguire magari il sogno romantico del cibo sfuso del chilometro zero dobbiamo arrivare a una soluzione direi o a varie soluzioni cioè quello che tu dici mi piace non esiste mai un'unica soluzione ci sono vari problemi e probabilmente le soluzioni saranno articolate non so se ti ho risposto spero di sì riguardo alle plastiche era una domanda più dal punto di vista etico perché io sono totalmente fuori del mondo e dai vostri studi e ricerche che sono totalmente affascinanti però a me sembra molto che la sostituzione della plastica con la bioplastica è solamente un altro modo per permetterci di fondamentalmente non curarci dell'ambiente cioè del fatto che se io prima avevo finivo il gelato avevo il cucchiaino nella coppetta lo potevo buttare in acqua adesso non lo faccio aspetto che arrivi la bioplastica da voi scienziati che la create così poi posso continuare a buttare l'ambiente a inquinare l'ambiente come prima quindi dal punto di vista etico non so visto che ho l'opportunità di avere due ricercatrici o comunque dottorande ricercatrici cioè come 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 svolgete ecco le qual è il fine etico quantomeno delle ricerche o comunque delle sì delle vostre ricerche laboratorio allora il fine il fine etico intanto noi ci occupiamo in massima parte mi alzo perché così ti guardo e loro possono riprendere perché non mi piace darti le spalle allora intanto noi ci occupiamo di ambiente quindi sicuramente noi ci occupiamo di quello che arriva all'ambiente tu hai fatto una giusta osservazione cioè il discorso del bio dopo diventa una scusa per dire beh allora posso inquinare perché tanto sono biodegradabili no non funziona così perché una cosa che io non ho detto non avevo un tempo nei 20 minuti è che quando mettiamo plastiche biodegradabili non tutte le bio based cioè tutte le plastiche che sono a base bio sono biodegradabili ci sono quelle compostabili ma non compostabili nella compostiera di casa tua sono compostabili a livello industriale quindi non è che tu puoi dire ah che bello adesso inquino butto lì tanto tanto si scioglie no non funziona così perché se hai bisogno di una compostiera industriale e butti dentro il canale della laguna di Venezia o nel giardino di casa tua non funziona così quindi lì sicuramente da un punto di estetico noi dobbiamo diventare sicuramente più responsabili ma la responsabilità sta nel fatto che veniamo educati se cominciamo a porci delle domande se cominciamo a cercare ed è chiaro che quando andiamo nel mare magnum di internet del mondo troviamo la qualunque quindi trovi quello che ti dice ho visso le plastiche nel sangue e poi ti chiedi sì ma come le hai viste non le hanno viste non le hanno trovato delle particelle che si suppone siano plastiche non potrebbe essere qualsiasi cosa è un allarmismo cioè anche noi scienziati dobbiamo essere molto più responsabili e lì entra il codice etico dobbiamo avere un certo codice etico per non creare questi allarmismi il conto è dire il sanno terrorismo è dire guarda che se se fai questa mossa e tu metti un il tonno a una certa temperatura e non lo chiudi bene non gli dai magari il giusto olio il giusto sale fai il botulino quindi devi stare attento il conto è dire facciamo allarmismo to cure no bisogna avere questo poi è chiaro bisogna cominciare anche a chiedersi questo bio da dove proviene giustamente Mauro continua a dire quanta terra abbiamo bisogno per fare l'alimentazione umana le biomasse per la plastica cioè non ne abbiamo tutta sta terra è anche inquinata la terra perché il suolo è stato inquinato e non parlo di suolo inquinato dalle agricolture dei suoi pesticidi metalli in traccia cioè abbiamo una serie di inquinanti di cui potremmo disquisire per giorni mesi anni però a un certo punto esiste anche bisogna cominciare a porre rimedio ai danni e bisogna diventare più responsabili quello sì e per quello che io dico sempre non esiste una soluzione ne esistono molteplici perché noi abbiamo l'abitudine di guardare come i cavalli pare a occhi quindi io guardo questo problema ma questo problema in realtà è una tessera di un puzzle più grande se io non guardo tutto il puzzle o non mi metto a cercare tutti i paesi del puzzle non ho soluzioni e ognuno di noi deve trovare una soluzione io sono convinta che quando un cittadino viene educato la soluzione ce l'ha la trova perché diventi più responsabile chiaro non è semplice anch'io quando vado a fare la spesa uno si domanda ma la posso comprare l'insalata in busta o compro il cespo di insalata normale che metto nella busta di plastica perché comunque però perché è bio è quello che uno si domanda è chiaro certo il packaging perché il packaging per esempio dell'insalata che è messa in busta non viene fatto con più plastica riciclata potrebbe essere una cosa una scelta noi potremmo secondo i consumatori uno potrebbe spingere su quello sicuramente però è sì è anche un'altra cosa la signora fa il discorso è vero che è un discorso economico non tutte le aziende hanno più i laboratori di ricerca e sviluppo e quello è fondamentale cioè le grandi aziende del passato il Westinghouse l'imperial della Gran Bretagna avevano i laboratori di ricerca e sviluppo e loro andavano avanti a scoprire quindi è vero che c'era un'imprenditoria feroce però è vero anche che se tu hai un laboratorio di ricerca e sviluppo che lavora a prescindere da quello che fa l'industria alla fine tutte quelle scoperte prima o poi rivengono fuori perché i polimeri plastici sono stati scoperti così poi sono stati ripresi tutti dopo il loro guerra perché a un certo punto c'è stata la guerra la guerra tutto veniva fatto per la produzione di guerra quindi c'è stato proprio un blocco quindi è lì ora non voglio dire che dobbiamo avere una guerra perché in realtà poi ce ne abbiamo tante ecco e quindi sì però possiamo diventare più responsabili vi collego solo al fatto della divulgazione l'educazione come dicevi è un po' il nostro fine etico il divulgare quello che noi scopriamo la nostra conoscenza e come per esempio quello che stiamo facendo questa sera quindi un'attività divulgativa alla società per esempio lavoriamo tanto anche con le scuole facciamo delle attività dei progetti proprio per insegnare anche i ragazzi ad avere più consapevolezza almeno pensare e riflettere quando c'è da capire da domandarsi da farsi una domanda ecco partendo proprio da qua ti rispondo io un minuto mi permetto allora come hai sentito come avete sentito non ci sono soluzioni univoche ce ne sono tante come avete sentito il bio il naturale e l'ecologico non sono soluzioni così ci mettiamo in chiaro subito le cose faccio io a te una domanda etica che è questo in senso buono statistiche cittadini europei dei 27 paesi della UE che siamo circa 520 530 milioni di persone svizzera esclusa dove vive bene allora in media siamo tutti uguali statisticamente siamo tutti uguali perché ognuno di noi uomo donna ricco povero mangia o consuma mangia tra i 500 e i 600 chili di cibo all'anno ok voi sei vegano o carniboro chili ognuno di noi produce in media 500 chili di rifiuti all'anno differenziati o no ognuno di noi usa 200 litri al giorno di acqua potabilizzata potete guardare nel comune di residenza le statistiche siamo tutti uguali allora questo per dirti cosa è assolutamente vero che sono le imprese che scelgono il packaging questo è fuori discussione sono le imprese che scelgono il packaging noi andiamo al supermercato e compriamo è assolutamente vero quello che dice Mauro Balboni scordati di salvare il mondo perché compri senza packaging ma serve anche quello allora perché tutte queste cose che hanno detto diventino efficaci bisogna in concreto che noi 500 milioni di persone cambiamo i comportamenti in contemporanea quindi per essere chiari ciò è possibile solo se nel medio lungo periodo 5, 10, 15, 20 anni se c'è formazione come diceva Beatrice Rosso o incontri come questi sicuramente quindi cose di lungo periodo istruisci i bambini a 3, 4, 5, 6 anni quando diventeranno adulti intanto si mangiano 500 kg di cibo e usano 200 litri d'acqua quindi una cosa di lungo periodo di generazione seconda cosa è la politica non la politica dei verdi o del WWF così sono chiaro non quella politica ma l'azione civile perché se io e te scegliamo di mangiare vegano noi facciamo una scelta come c'è scritto nel libro di Mauro Balboni che viene intercettata dal marketing alimentare e ci fanno trovare quello che vogliamo ma io e te non produciamo cibo quindi io e te mangiamo solo se abbiamo i soldi in tasca o un reddito di cittadinanza o di lavoro o di pensione o quello che vuoi quindi c'è anche un aspetto che non si può dire però cioè che non si può dire questa sera perché il tema era un altro tra economia cibo e plastica non ci sono i buoni e i cattivi cioè mettiamocelo il cuore in pace non ci sono i buoni e i cattivi che non c'è la soluzione quindi purtroppo o per fortuna mangiare vegano o non mangiare carne sono è un contributo chi è vegano emette in media in Europa 4 tonnellate di CO2 chi non lo è ne emette 6 c'è una bella differenza 2 tonnellate in media all'anno li moltiplichiamo sempre per i 500 milioni di persone quindi il contributo individuale passa dalla formazione dalla conoscenza e dal denaro e dalla ricerca quindi sono cose articolate ok grazie mille a tutti grazie per chi è intervenuto grazie ai relatori se avete altre domande comunque penso che si possano poi mettere in contatto in qualche modo alla alla fine della sala trovate il il libro di Mauro se volete acquistarlo e e niente vi ringrazio tutti ringrazio ancora Beatrice Fabiana e Mauro e se vuoi 19 novembre a Milano Foresta insieme con Fabiana Corami e Beatrice Ross presentiamo due libri sulle plastiche due libri scientifici di divulgazione sulle plastiche per adulti e sulle plastiche per bambini e mamme 19 novembre a Milano i libri poi li troverete sia nel sito di Atmosfera Lab che nel sito di Foresta vi ringrazio ringrazio tutti arrivederci arrivederci grazie verse grazie a tutti ringrazio e grazie a tutti Grazie.